Colossea vende la tua casa Ben ritrovati su Colossea Channel oggi ci troviamo nel quartiere dell'Axa dove proponiamo in vendita un villino prestigioso e in perfette condizioni partiamo dal giardino frontale interamente a prato e che rappresenta l'ingresso dell'immobile Il piano terra ospita la zona living ed è composto da ampio salone, cucina a tinello camera media, bagno e giardino posteriore ed ecco il salone il piano terra ospita la terra ospita la terra ospita la terra ospita la terra che si farò è fatta la terra ospita la terra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi una zona giorno estremamente elegante, con un design moderno che risulta sempre equilibrato a favore di un'atmosfera di totale positività. Il piano terra si conclude con una camera media e un servizio. È il momento del piano seminterrato dove trova spazio una grandissima sala hobby. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.